Il primo germe del computer science instillato nella mia mente risale ormai più di 30 anni fa, quando ebbi la possibilità di usare il mio primo personal computer da bambino e imparare a programmare all'età di 8 anni circa. La mia formazione tecnica si è poi evoluta per quasi caso, per dire per voglia più di avventure, in una formazione umanistica, in quanto decisi di cambiare dalla computer science alla studio della filosofia. Quindi la filosofia mi ha dato veramente quel background necessario per comprendere le scienze cognitive, l'uomo, la lingua e il modo in cui pensiamo, che poi mi ha portato quasi per attrazione magnetica, direi, indietro all'intelligenza artificiale e quindi a studiare alla scuola di dottorato qui di Trento computational linguistics, che non è altro che un termine per descrivere l'utilizzo del linguaggio naturale e la comprensione del linguaggio naturale da parte dei computer e quindi l'intelligenza artificiale. Sono poi, per puro caso, o diciamo per vocazione, finito nell'ambito business negli ultimi anni, che è stato un momento in cui l'intelligenza artificiale diventò, divenne mainstream, richiesta da tutti i clienti dell'azienda per cui oggi lavoro, IBM, e quindi le persone che se ne occupavano da tempo come me sono state, diciamo, proiettate in questo mondo del business, della commercializzazione dei prodotti. Finché, per pura scelta, per mia voglia, diciamo, direi puramente intellettuale, il piacere, sono tornato alle origini e oggi mi trovo a dirigere un piccolo gruppo di ricerca all'interno di IBM Research, che si occupa del futuro dell'intelligenza artificiale nell'ambito della comprensione del linguaggio. Grazie. 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 Grazie.